buongiorno siamo veramente felici di essere con voi in questa bellissima occasione del vostro quinto anniversario sono tanti ricordi che abbiamo di voi dei battesimi bellissimi emozionali anche anche un picnic il primo maggio qualche anno fa a fuori una delle cose che abbiamo visto apprezzato in voi questo la gioia che c'è fra di voi anche questa voler conoscere cristo infatti la nostra preghiera per voi è quella dell'apostolo paolo agli effesini e dice noi non smettiamo mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle nostre preghiere finché il dio del nostro signore gesù cristo il padre della gloria di dio uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente tanti auguri per questo quinto anniversario buongiorno